Riparte l'avventura della primavera a Rosanero impegnata domani nel primo impegno ufficiale della stagione contro il Frosinone nella prima giornata di campionato, una competizione che lo scorso anno ha dato tante soddisfazioni ai ragazzi di Giovanni Bosi, così come il torneo di Viareggio, l'obiettivo è ripetersi più emozione o più entusiasmo, lo ascoltiamo alle parole di Giovanni Bosi. In parte mia direi più entusiasmo e anche curiosità di vedere i nuovi giocatori che sono arrivati dagli allievi, i nuovi giocatori che sono arrivati dal mercato, quindi c'è anche tanta curiosità e tanto entusiasmo di fare un buon lavoro. Io sono contento perché comunque abbiamo lavorato bene, con impegno, tanta intensità, abbiamo fatto delle buone partite che mi hanno soddisfatto dal punto di vista della voglia di apprendere e di fare, una cosa che nel campionato primavera non può mancare è la voglia di fare, piuttosto si sbaglia sempre per eccesso ma è per difetto e quindi da questo punto di vista sono molto contento. Il Palermo è una squadra importante, un settore di giorni importante, quindi deve fare un campionato importante, non ci possiamo nascondere, ma sempre comunque passando dalla crista dei ragazzi e da delle prestazioni che sono più importanti della classifica. Il capitano della squadra di quest'anno sarà il difensore Andrea Cardi, tra le sorprese più positive della scorsa stagione andiamo a sentire le sue sensazioni in vista dell'esopo. Una grande emozione anche perché sono il capitano della squadra e quindi ovviamente non è una partita facile, sappiamo che è sempre l'esordio e quindi ognuno di noi avrà un'emozione molto speciale. Questo gruppo è un mix di giocatori che già l'anno scorso erano qui ed altri che hanno fatto benissimo con gli allievi, presentacelo un po'. Sì, un po' li conoscete perché alcuni hanno fatto benissimo lo scorso anno, altri hanno giocato un po' meno e quest'anno avranno molto più spazio. Sono dei ragazzi molto in gamma, molto umili e c'è molto talento e già da domani si vedrà che squadra siamo. L'obiettivo è partita per partita, vincere ogni partita e poi tireremo le somme e vedremo se potremo arrivare fino alle finali scudetto. Un premio come miglior portiere del torneo di Viareggio e tante ottime impressioni negli addetti ai lavori per Fabrizio Alastra, questa deve essere la stagione della conferma. L'anno scorso ho fatto bene, però quest'anno si riparte, speriamo di fare altrettanto bene. In ritiro abbiamo formato un buon gruppo, il gruppo è abbastanza competitivo, poi sarà il campo a parlare e a dire dove potremmo andare. Sicuramente l'importante è fare bene, cioè il sogno è andare in prima squadra, questo è l'importante. Sarà sempre il campo a parlare, di sicuro il gruppo è competitivo e siamo consapevoli di poter far bene.